Il suggestivo e spettacolare posto della Valle dei Templi, è un piacere visitarlo? Assolutamente sì, questa settimana ho fatto un bel viaggio in Sicilia e ovviamente non potrei venire senza anche visitare la valle. È un sito meraviglioso, rappresenta il patrimonio culturale mondiale e veramente rendo omaggio al Consorzio, al Comune, a tutti loro che hanno tutelato così bene questo sito importantissimo. Si possono intraprendere tranquillamente rapporti anche con la Gran Bretagna? Sì, siamo orgogliosi dei legami storici che esistono fra il Reino Unito, la Sicilia e soprattutto qui ovviamente con Agrigento. Ma durante la mia visita volevo anche trovare, scoprire le nuove opportunità per la collaborazione fra il Reino Unito e la Sicilia. E ci sono tante opportunità di cui potremmo approfittare. E anche come i miei connazionali, con i britannici che vengono qui ogni anno, sanno c'è sempre un'accoglienza calorosissima. Una importante collaborazione in chiave turistica? Sì, 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 assolutamente. Ogni anno adesso il numero dei britannici che vengono in Sicilia si aumenta. E anche lo so, parlando con loro, che quando una persona è venuta torna sempre il prossimo anno. Lei ha detto subito sì all'invito di Emanuele Farrugge e dell'allora presidente Fabrizio Lagaipa? Sì, sono molto molto grata per la visita oggi, per la generosità, per lo spirito di amicizia anche. Rimarrà qui, seguirà anche il mandorle in fiore? Purtroppo no, purtroppo no, magari. Quest'anno non è possibile perché torno a Palermo questo pomeriggio. Ma se fosse possibile, con grande piacere, tornerei l'anno prossimo.